3 dicembre 1984, intorno a mezzanotte e mezza, circa 40 tonnellate di gas tossico fuoriescono dai serbatoi di stoccaggio dell'industria di pesticidi dell'americana Union Carbide a Bhopal in India. Prima che sorga il sole muoiono circa 2000 persone. Secondo un rapporto di Amnesty International, la nube tossica che avvolge i cieli di Bhopal uccide complessivamente 20.000 persone e causa danni permanenti a circa 100.000 individui.